La rassegna stampa è offerta da Martedì 29 luglio, buongiorno a tutti e ben ritrovati all'interno della nostra rassegna stampa. Andiamo a leggere insieme le principali notizie dei quotidiani di oggi. Iniziamo la nostra rassegna stampa con il quotidiano nazionale romano il messaggero, apertura dedicata alla politica. Riforme, voto finale a settembre, Renzi apre ai dissidenti, ritirati gli emendamenti e accetto il compromesso sui tempi. Si tratta anche sulla legge elettorale, Berlusconi annulla l'incontro di oggi, non mi fido. Caso Tavecchio, Taglio Centrale, intervengono FIFA e Unione Europea, calendari, i derby di Roma, tutti nel 2015. Dopo le frasi razziste, per la FIGC avanza l'ipotesi commissario. Sulla destra torniamo un attimo alla politica, in particolare quella economica. Contenzioso fiscale, oltre 25 miliardi di pagamenti a rate, ma l'appelo delle entrate mancano 475 miliardi di crediti mai riscossi. Taglio Basso, cronaca internazionale, Gaza, strage di bambini nel campo giochi. E poi tornando un attimo in Italia, follia a Napoli, killer di Camorra, sbagliano persona, pensionato ucciso per errore in strada. Pagina regionale con la Gazzetta del Mezzogiorno, abusivismo, offensiva a Santa Maria di Leuca, sequestrate, 17 ville, la max inchiesta della procura, denunciate 40 persone. Regione Puglia, 100 milioni destinati a cassi integrati, scatta il piano lavoro bis, su strade e parchi partiranno i primi progetti sperimentali. La Gazzetta di Lecce, guerra all'abusivismo, sigilia 17 ville, denunciate 40 persone tra proprietari, progettisti e tecnici. Ambiente, l'intero territorio da Castrignano del Capo è stato passato al setaccio dalla polizia provinciale. Lecce, anagrafe violata, i ladri rubano carte di identità, misterioso colpo negli uffici di Via Lombardia. Al centro stadio è partita la conta dei danni, danneggiato il manto erboso del Via del Mare dopo il concerto dei Negramaro. Sulla sinistra, nardò bandiera nera per il megaporto di Sant'Isidoro, con le passo fotovoltaico con l'imbroglio, in 13 a processo. Gallipoli, sfilano le borsette a due turiste, nei guai una coppia. E poi taglio basso, ex bat, sfila la rabbia dei colleghi del suicida. In campo la Caritas, le istituzioni e le imprese diano un lavoro ad Andrea, il giovane deve curare i genitori malati. Calcio, chiusa la trattativa col bomber, Lecce, Esco, Ecco, Mosca, Gol, arriva all'esterno, carrozza. Nuovo quotidiano di Puglia, operaio suicida, indaga il PM, gli fu incendiata l'auto, raid punitivo, istigazione, il reato ipotizzato. La procura apre l'inchiesta sulla tragedia della disperazione del cassa integrato ex bat. Corteo e Sittine davanti alla prefettura per ricordare Budano in piazza, l'ira e le accuse dei lavoratori. Massaggi inefficaci, risarcita, trattamenti all'addome, centro estetico dovrà restituire 12.000 euro. E ancora cronaca il colpo notturno a Lecce, ladri in azione su commissione, misterioso furto all'anagrafe, trafugate, 80 carte d'identità. Locomotive nel barocco, tra jazz, mostre e arte, la rassegna da giovedì per la prima volta a Lecce. Il Lecce batte due colpi, Moscardelli e Carrozza, la società giallorossa, regina del calcio mercato. Pagine interne del nuovo quotidiano di Puglia, svolta bike sharing, card in vendita H24, le schede acquistabili alle stazioni con i mezzi, e arrivano i distributori automatici di abbonamenti. Servizio aggiuntivo, due quelli già in funzione attivi 24 ore tutti i giorni. E poi la precisazione di SGM, targa, sosta e privacy, non c'è violazione. Il dramma del lavoro, l'auto bruciata prima del suicidio, la procura indaga, il fascicolo sul tavolo del PM, istigazione e il reato ipotizzato, si scava tra vita privata e conoscenze di Fabrizio Budano. La trattativa, prefetto e regione, ultimo SOS, subito un tavolo al Ministero. Doppio appello al Governo e la Polibortone chiede una commissione d'inchiesta. Il corteo, gli operai contro i palazzi, il grilletto premuto da voi, vestiti a lutto lungo i viali, le istituzioni nel mirino dei 200 dipendenti ex BAT. Economia, sfida Confindustria, patto con Taranto, firmato ieri un protocollo d'intesa, De Castris, ora più servizi di qualità. Capitale della Cultura, più di 70 comuni spingono Lecce 2019, primo forum ai teatini, pronti 300 soci per Rone, un grande iter di partnership. Furto all'anagrafe, 80 carte d'identità in mano ai banditi, colpo mirato negli uffici di Via Lombardia, ladri entrati dall'ingresso posteriore. Otranto, multe con gli autovelox, il giudice, sono valide, quattro sentenze, danno ragione alla provincia, legittimi gli apparecchi contestati. Pagine interne, Sport, Moscardegli, Lecce, Ti Porto in B, l'attaccante ha firmato un contratto biennale, mi ha convinto alla serietà della proposta e del progetto. L'altro colpo di mercato, tesoro completa l'opera, preso il Salentino, carrozza. Termina qui anche oggi la nostra rassegna stampa, come sempre vediamo appuntamento a breve con TG News 24. Buona giornata.